George Oriana, il pubblico ha deciso che a dover abbandonare per sempre la casa del grande fratello è George George, mi spiace Oriana, sei salva, come si dice in espagnola? Mi hai salvato Te hai salvato, te hai salvato Non ci credo Te hai salvato Allora, tu puoi rientrare nella casa? Buono Buono Grazie, grazie Mi voglio tantissimo, grazie, grazie, grazie mille